Renault presenta la nuova Chocar, inspirata al passato e orientata al futuro. Si chiama Air 4 ed è frutto della collaborazione tra il brand francese e il centro di design d'Arsenale. Il risultato è una vera e propria macchina volante. Partendo da bozzetti, disegni tridimensionali e tanta fantasia, i designer si sono ispirati alle linee della Renault 4L, rivedendole in chiave moderna, omaggiando una vettura che ha scritto la storia del marchio, arrivato ormai al suo sessantesimo anniversario. Sulle stesse linee e volumetrie della 4L, il team di Renault e d'Arsenale hanno dato luce ad una vettura interamente progettata in fibre di carbonio, con rigidità e leggerizza, adatte a spiccare il volo, letteralmente però. Un lavoro lungo e certosino, fatto di calcoli e test, per includere nuove varianti come la spinta e la salita, fino ad ora difficilmente immaginabili su una 4L. Grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale per dare stabilità e maneggevolezza a questa Air 4, gli ingegneri hanno optato per una struttura a quattro doppie eliche, una per ogni angolo del veicolo. Dopo 60 anni, Renault è quindi riuscita a dare nuova linfa vitale ad una vettura che da sempre ha simboleggiato libertà e avventura, alzando queste prerogative fino in cielo.